Ci troviamo a conoscere l'editore di VignaclaraBlog.it, Claudio Caffasso. Allora Claudio, come nasce quest'idea di questo blog? Allora, l'idea di questo blog, di VignaclaraBlog.it, nasce innanzitutto, è doveroso dirlo, da un'idea di Fabrizia Zali, che è coeditore insieme a me. Nasce per gioco, per fare un blog di quartiere, per parlare dei fatti del nostro territorio. In realtà ha occupato uno spazio immenso, perché prima non c'era nulla in rete che parlasse di questo territorio, per cui ha avuto subito il suo discreto successo, del quale siamo abbastanza orgogliosi. Quanti sono infatti le persone che visitano il vostro blog? Abbiamo una media di, per gli addetti sono dei tecnicismi, 100.000 pagine viste, oltre 100.000 pagine viste al mese, una media di 2.700 e 3.000 visitatori unici ogni giorno. Quindi è un gran bel numero per essere un quotidiano, perché oggi è un quotidiano a tutti gli effetti, un quotidiano dedicato a una nicchia di territorio, quando anche sia una nicchia molto grande, perché Roma Nord, che identifichiamo col ventesimo municipio, sono 187 km2, quindi è più grande di Milano. Quanti abitanti? 150.000 abitanti. È un territorio più grande dell'intero comune di Milano. Claudio, quali sono le segnalazioni che premano i cittadini, che arrivano continuamente? Le segnalazioni che arrivano sono continuamente il traffico, il traffico, la mobilità, la viabilità, è la piaga, purtroppo è la piaga di questa zona, che è scoppiata, se basta pensare alla Cassia, che è scoppiata negli ultimi decenni, quindi ci vivono decine e decine di migliaia di abitanti, ma la Cassia è sempre quella, costruita, realizzata a spina di pesce, quindi con tante piccole traverse che scendono a valle verso il basso, ma che tutti gli abitanti poi confluiscono sulla Cassia. Alla mattina ci sono chilometri di file tutte le mattine e tutte le sere, ed è veramente una cosa che sta disperando i residenti. Allora, sappiamo che avete ricevuto anche un premio dal ventesimo municipio. Sì, 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 il nostro fiore all'occhiello. Nel 2009 il ventesimo municipio, nell'ambito del premio Baiocchi, un'istituzione che fa tutti gli anni, ha voluto premiarci per l'impegno sociale e ambientale profuso sul territorio. Per noi è stato un grandissimo motivo di orgoglio, perché insomma, ragazzi, veniamo dal niente. Grazie.